Gentili telespettatori, buona giornata. Un appello per le elezioni anticipate arriva via Facebook dalla leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che dice «Nemmeno è caduto il governo Conte II e già si ipotizza un Conte III. Le inventeranno tutte per evitare, ancora una volta, di presentarsi al cospetto degli italiani in libere elezioni. È una menzogna che non si possa votare. Elezioni subito, punto, esclamativo». Quindi la leader di Fratelli d'Italia ribadisce il concetto che, come ribadito anche da Matteo Salvini, in Francia hanno cambiato governo, negli Stati Uniti hanno votato, in tutta Europa quest'anno si cambieranno i governi, quindi è una menzogna che non si possa votare. Da qui per altri sei mesi si può fissare la data delle elezioni prima che cominci il semestre bianco, quello quando per legge non si può andare a votare perché sono i sei mesi che anticipano le elezioni del Presidente della Repubblica. Grazie e buon proseguimento di giornata.